Benvenuti collegati dal Campo Bentecoti per la prima premiazione di questa Gems Cup 2010-2011, siamo con Alessandro Crudi della Juventus. Ciao Alessandro. Allora Alessandro cosa ne versi di questa Gems Cup e quali sono i vostri obiettivi in questa stagione? Al torneo mi sembra carino, vedo anche squadre abbastanza varie, insomma tutti i giocatori che giocano, è divertente e le nostre ambizioni insomma uno arriva sempre più alto possibile. A Wembley quindi, puntate direttamente a Wembley. Quali sono le squadre che temi un po' di più, hai visto un po' le rose? Ma sì, guardo, ho dato un'occhiata, comunque la squadra di stasera Real Madrid mi sembra una squadra abbastanza preparata e anche abbiamo giocato la settimana contro il Bologna, credo che sono abbastanza bravi, gli altri sinceramente non li ho visti. Ci sarà tempo per testare. Un giocatore in particolare che hai visto nelle rose? Che temi di più? Ma guarda, sinceramente non ho visto. Milani, ce l'hai in casa. L'unico che temo può essere lui. Perfetto, allora per queste prime giornate ti premiamo con questa giacca personalizzata da Gems Cup per quello che abbiamo visto, hai fatto dei bellissimi gol, delle ottime prestazioni. Grazie Anche stasera, purtroppo è arrivata la sconfitta, ma comunque è una domanda. Ciao, grazie. Ciao.